Omaggio 2021 vuole riconoscere il lavoro e le battaglie di numerose donne in tutta la Svizzera per l'introduzione del diritto di voto alle donne e per la parità dei diritti. Inizierà con l'esposizione dei ritratti di donne di tutti i cantoni che si sono impegnate per questi obiettivi, l'esposizione di ritratti nella città vecchia di Berna e culminerà con uno spettacolo e una proiezione sulla piazza federale. Grazie 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 Grazie